fratelli e sorelle carissimi che alla luce del vangelo siete chiamati a cogliere e discernere i segni dei tempi grazia e pace da dio nostro padre e dal signore gesù cristo il breve brano del vangelo oggetto dell'odierna riflessione e il testo di luca al capitolo 12 versetti 49 53 le parole del messia contengono in una sola espressione la potenza dell'opera divina che si svolge in mezzo agli uomini gesù è pienamente consapevole di essere portatore di un messaggio travolgente anzi divorante come un fuoco che scalda e consuma sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso versetto 49 il fuoco che gesù è venuto a portare con forza in mezzo a noi è quello dell'annuncio evangelico contiene una parola vitale piena di amore che scalda il cuore di coloro che la accolgono c'è in gesù la stessa passione che guidava il cuore dei profeti dell'antico testamento quando si trovavano in mezzo alle contrarietà o alle persecuzioni mentre portavano la parola di dio al popolo dell'antica alleanza anche il messia coglie intorno a sé e al suo annuncio l'ostilità di molti gesù vorrebbe che tutto fosse compiuto in una parola che il fuoco fosse già acceso c'è nell'espressione del maestro la nostalgia di un compimento delle cose compimento che si percepisce però doloroso la consapevolezza di gesù riguardo la sua missione si fa cammin facendo sempre più piena il sentore del suo sacrificio cruento si coglie nelle parole del versetto 50 ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto comprendiamo pienamente che il battesimo di cui parla gesù è il suo sacrificio pasquale preannunziato così come afferriamo il senso di umana angoscia espresso nell'attesa del compimento degli eventi le parole dell'uomo gesù ci comunicano infatti il desiderio che tutto sia compiuto quanto prima come vicino il sentire di gesù a quello della nostra umanità anche noi di fronte all'ineluttabile dolore contenuto nel vivere umano percepiamo angoscia tentazione di fuga finché non abbracciamo fortemente il nostro destino di passione ciò fa grande e bella la nostra umanità accomunata nella passione a quella del nostro salvatore solo nell'abbraccio della croce troviamo infatti la via della nostra salvezza e di conseguenza la nostra pace di pace ci parla anche gesù nel versetto 51 pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra no io vi dico ma la divisione in gesù abbiamo la consapevolezza che il messaggio del vangelo sia un lieto annunzio di pace portato agli orecchi al cuore degli uomini la nascita del salvatore è motivo per glorificare dio nell'alto dei cieli e portare pace agli uomini amati dal signore le prime parole che risorto rivolge ai suoi sono pace a voi tutto ciò che gesù dice compie è fonte di pace per coloro che nella fede lo accolgono come figlio di dio e salvatore ma gesù sa anche di essere pietra d'inciampo segno di contraddizione se da una parte vi è chi lo accoglie nella fede come salvatore e fa così l'esperienza della pace dall'altra troviamo chi lo rifiuta chi si fa suo nemico ostacolando l'annuncio della salvezza giungendo perfino a perseguitare gli annunciatori in questo la storia si ripete il rifiuto o l'accoglienza nella fede di gesù come messia e salvatore che percepiamo nelle parole del maestro è lo stesso che la chiesa percepisce nello svolgimento della sua odierna missione apostolica ciò che è stato fatto a cristo oggi è fatto al corpo di cristo la chiesa i versetti 52 e 53 ci parlano poi dell'accoglienza o del rifiuto di gesù come salvatore all'interno di contesti familiari d'ora innanzi se in una famiglia vi sono cinque persone saranno divisi tre contro due e due contro tre nelle parole del vangelo che non dimentichiamolo mai sono catechesi rivolte a comunità cristiane nascenti sono contenute situazioni di vita proprie della chiesa primitiva l'annuncio proclamato in contesti pagani poteva infatti generare situazioni conflittuali all'interno di famiglie nelle quali due o tre membri avevano magari accolto la novità del vangelo mentre il resto del nucleo era rimasto legato alle antiche consuetudini pagane anche i rapporti parentali stretti potevano trasformarsi in relazioni conflittuali nonostante il legame di sangue a causa della fede in gesù da qui le parole del signore si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre madre contro figlia e figlia contro madre suocera contro nuora e nuora contro suocera versetto 53 accogliere il signore in un contesto sociologico dove il paganesimo era la religione dominante implicava un atteggiamento di tolleranza alla quale certamente non era incline il paganesimo antico che vedeva intaccato il sistema socio politico culturale che lo aveva generato tutto veniva travolto dalla potenza rinnovatrice trasformante del messaggio evangelico da qui l'alternanza storica di periodi di relativa tranquillità contrapposti a tempi di spietata persecuzione contro il cristianesimo nascente tempi che gesù ha dichiarato sempre possibili a ripetersi laddove la fede in lui e nella sua salvezza viene proclamata nell'annuncio del vangelo da noi nel nostro occidente in questo tempo che non esiterei a definire post cristiano il discorso si è fatto sottile infatti non è in atto una persecuzione fisica dei credenti percepiamo piuttosto un rifiuto che nasce da un relativismo culturale il quale genera indifferenza e con l'indifferenza l'emarginazione non parlo con vittimismo ma con senso storico che mi fa essere realista di fronte a grandi cambiamenti culturali in corso che non pongono certo il cristianesimo e i suoi valori in cima a quella scala delle priorità utile anzi necessaria per costruire la società del domani non per questo smettiamo di essere annunciatori di speranza ne riteniamo certo inutile il nostro impegno nel testimoniare gesù e il vangelo della salvezza siamo certi che il pieno compimento della storia umana coinciderà con l'avvento del regno di dio per questo operiamo affinché venga il suo regno un regno di giustizia di amore e di pace che in spirito santo si estende nel cuore degli uomini trasformando le loro relazioni invochiamo dunque nella preghiera il padre celeste affinché venga il suo regno in mezzo a noi e operiamo nella quotidianità con le nostre azioni perché la sovranità di dio si instauri nel cuore degli uomini amen grazie a tutti